Scusate ma c'è stata un'interruzione. C'è stato un piccolo inconveniente tecnico. Sorry, I've been a technical problem. I apologize for this. Ok, let's go, andiamo avanti. Ok, where's Tisha? I must go, on the wait station. Ok, possiamo andare avanti. We can go near, far, wherever you are. I believe that the heart will go on. Hello, thank you, grazie. That's it. Ok. X-ray checkpoint. Checkpoint da raggi infrarossi. Salve, buon lavoro. Customs, dogana. Passport. Buongiorno, good morning. Hello, thank you. Bye bye. Ciao ciao, statevi bene. Siamo arrivati in Bulgaria. 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 SO, NOW, ANOTHER PICTURE SOLO. BULGARIA. Scusate, ma sapete com'è? Diventa come una cartolina. BULGARIA. It sounds like a postcard. BULGARIA. profondità di campo, quindi questo ci dà un campo profondito in fotografia. 140 chilometri rari in autostrada, 140 km per hour on the highway, here in Bulgari. Oh! Stavo guidando contromano! I was driving on the wrong side of the street. Ehm... Ehm... Questa parte della mappa riduce notevolmente i fotogrammi. Ehm... 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 sszst tico 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 da tico 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 da ecco Grazie a tutti. Grazie mille Asrubale e benvenuto alla live. Grazie, grazie, grazie. Una bella strombazzata tutta dedicata a te, vai. Benvenuto alla live. Benvenuto nel canale dove si fa il soft gaming. Si gioca, si chiacchiera e si cerca di rilassarsi un pochettino. In questo momento sto andando a consegnare a Sofia dopo una partenza da Istanbul. No, purtroppo Minecraft no. Ma è uno dei giochi che mi sta stuzzicando la fantasia, ecco. Allora, dovrei essere quasi arrivato. Destinazione. Buono, mi sa che qua forse manca ancora un po'. Ehi, 300 chilometri. E certo, sto arrivando a destinazione. Tu giochi ad Eurotrack, a Stubale. O non è il tuo tipo, il tuo genere di gioco? In questo momento stiamo attraversando la Bulgaria. Ho il prossimo carico che ho creato con un virtual speditor. Me lo sono dimenticato. E saranno oltre 300 chilometri più o meno. Non so perché, ma ogni volta che arrivo in questo punto della mappa va pianissimo in mezzo. Molto 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 strano. Ora si rista riprendendo. Sempre dritto. Perfetto. So, ogni volta che riuscivo in questo punto della mappa la traccia va molto lentamente. e Sì 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 the gallery and they're inside in the tunnel, the tunnel of love by Dire Straits I was losing the control of the track I ride three wheels I ride three wheels Bulgaria I ride three wheels I ride three wheels level dovrei essere arrivato should be the cities of destination should be boom hmm andiamo avanti let's go near far wherever you are I believe I drive three wheels tico 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 Lo sapevo Appena mi distrago Non lo sapevo Appena mi distrago Non la boccio Grazie a tutti 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 Take it easy Relax Take it easy Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Take it easy Grazie a tutti Grazie a tutti Sofia Sofia E non sofia Thank you Grazie a tutti Andare a dormire Grazie a tutti Sofia Oh ci sono Grazie a tutti Dovrei Grazie a tutti Ehm... 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.